Gli giri inoviti Sali pure Grazie Ciao Ciao Matteo Allora Allora Perfetto Sinistro nel passalotto, destro nel freno, frena forte. Ok, siamo un pochino... andiamo un pochino avanti. No, va bene, va bene. No, un pochino avanti. Ancora. Avanti. Prena. Ok. Lascia pure il freno. Ma il 9.15? Avanti. Ok. E' tutto avanti questo? E' tutto avanti il volante, giusto? Ok. Mi metti in avanti un volante? Perfetto, cintura che è importante. Grazie. Dei giri senza video. Ok, un passaggio a box. Buon divertimento. Grazie. Ok, io sono Matteo. Sì, piacere, Daniele. Daniele, allora, adesso, appena che ci dicano, partiamo. Sì, io ti volevo dire, è la seconda volta che vengo. Sì, però le temperature sono diverse, lo ascolti. Sì, sì, no, ma ci credo. Qui per mettere la prima... Niente, piedi sul freno, ingaggi la prima, quella paletta. Ok, quindi uso le palette, va bene. E dopo, cambia lei. Vai, guarda lui. Allora, abbiamo messo dei birilli in pista. Ai birilli deceni leggermente prima e mi fregge sul birillo. Ok. Ti dico come scalare, ti dico anche le traiettorie. Quindi devo vedere come guidi. Certo, no, è chiaro. Sono due giri. Mi devi ascoltare perché devo far girare tutto il giorno con... No, no, ma è chiaro. Ti dico soltanto che l'ultima volta l'altro tuo collega mi ha fatto frenare 100 metri prima, il rettilineo mi ha fatto rallentare. Io, per me, per il divertimento, significa sentire la compressione d'acqua minerale. Allora non ci riusciamo. No, avevo niente, ne parla loro con delire. Cioè, io la devo far girare, sta macchina, quindi dopo vedi con un altro, ma... Comunque, adesso qua non mi devi corsare, vienci pure, non mi devi uscire la riga bianca. Ok, però così devo portare alla FIA la macchina io. Certo, certo. Degelera. Grazie. Non possiamo passare finché non ci hanno le quattro frecce. Prena, Brillo. Prena. Scala. Ok. Contesto perché non sai mai dove va lui. Prena. Brillo. Accelera. Prena, scala 1. Prena, scala 1. Aspetta a dare gas. Gas in uscita. Adesso. Vai. Eccelera. Eccelera. Fatta. Prena. Ok. Come mai capiamo l'assetto del WET? Un autore in salita non va, eh. Mani sul volante. Corre. Frena. Più dolce perché sennò così impegniamo le macchine. Oh, in pista io so di spiegare. Lo so, però qua devo far girare giù. Frena. Vedi dove vai. Vedi dove vai. Devi far andare giù. Non devi frenare all'ultimo. Devi dare il tempo alla macchina di abbassarsi. Oh, guarda. Lo sport facevano frenare all'ultimo. Frena. No, no. No. Devi dar più ad agio. Quindi schiaccia. Fai l'altro giro e devi dar più ad agio. Cioè, sono venuto qui per fare il corsa. Con la mia macchina su cui va ad entrare un mani in pista. Luce, eh. Cioè, stiamo guidando la macchina 600 km. Oh, mani sul volante. Mani sul volante. E' già due volte che mi metti le mani sul volante. Allora, se mi ascolti, facciamo l'ultimo giro. Se no, andiamo dentro. Certo. Ma non mi fregare. Ma che cosa ti devo fregare? Ti frego vita, eh. Cosa ti devo fregare a fare? Scusami, no. Aspetta. Allora... Oh! Detento da adesso! Detento da adesso! Falta a sinistra! Mano sul volante! Prena al grillo. Poverso una macchina! Cavola mi aiutati quando prendi! Non fai il freno! Malo il freno! Basta Non vai la situazione Eh, quando c'è un'altra macchina C'è un po' più vado, c'è un po' più no la macchina Grillo, rallentra Prena, una macchina Ok Prena 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 Ho capito, però Calmi ha parlato, abbiamo sbandato Sullo scollino E hai delzato il dito, devi stare concentrato Quindi devi dare retto a me Adesso rallenti, torniamo dentro con calma Ok E poi Fai un tiro con qualcun altro Perché già tre volte, tre volte E tratto viene mai sul volante E non va bene Sbaccio, guarda la prezza Rallentalo adesso Perché Frena Frena Senza freni, vedi Frena Frena E senza freni è rimasta Il frenato non andava giù Rallentalo Farlo piano questo Farlo piano perché ci sono le temperature Non è che te lo dico per caso È caldo oggi Sai quanta gente monta su prima vita che frena una mola? Quanto puoi pensare che hai la macchina? E mica la usi solo tu È questo che vogliamo spiegare anche a voi delle volte No, d'accordo Però magari Tra una persona e l'altra Ci metti più spazio E aspetta che si raffredda Però adesso si parla quando è subito fresca Com'è il pedale? Che ci sei tu lì? Ma è abbastanza buono Un po' spugnoso Eh, allora, vedi Sono tutte cose che uno quando guida Deve capire queste cose qua Adesso vi faccio parlare con coi E vedi che si fa in un altro tiro Lato aiutato io Non si parnava mica la macchina Ti ringrazio Ho dovuto rinindicare quel ragazzo? Sì Avanti ancora Ok Adirizzo il volante Contemporaneamente Perfetto Posto Ci opera? Riposate Grazie, buono buono Sì Bene Grazie Grazie